Da molto tempo Dal Vangelo secondo San Luca, capitolo ottavo Dal versetto 27 successivo E mentre metteva piedi a terra si fece incontro a un uomo della città da molto tempo possevuto dal memoria Da un indossato restito che divorava in casa, ma nelle volte A costrui appena vide Gesù si gettò qualcuno di razza e urlato disse Che vi è fra me e te, Gesù figlio di Dio altissimo, me ne prego, non tormentatevi Gesù mi mandò a lei e mi disse Gesù mi mandò a lei e mi mandò nel suo corpo Da molto tempo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti